La prima installazione si chiama Battimi e consiste in una serie di tronchi scavati dall'interno per risuonare. È una tecnica antichissima, soprattutto utilizzata dalla popolazione dell'isola di Vanuatu, che si trova in Oceania. Lì c'è una tradizione di scavare da dentro gli alberi per farli risuonare e batterli come tamburi. L'installazione si può battere con le mani, così come con dei bastoni. Si possono strofinare le cose, i sassi, quello che si vuole sulla corteccia. Il suono è sempre magico.